Resta arroventata la patata bollente del progetto della discarica di riceci. Nel mirino la società Aurora e la provincia di Pesaro Urbino, il cui cortile è stato assediato oggi dall'annunciato flash mob di manifestanti legati ai comitati che continuano a dare battaglia. Tant'è che dopo il comune di Petriano è arrivato anche il secondo ricorso al TAR contro la proroga concessa dalla provincia per i rilievi geologici di Aurora. Abbiamo già pronto il ricorso al TAR già registrato che va depositato in settimana e un ricorso in adjuvandum al ricorso fatto dal comune di Petriano. Lo facciamo perché? Per dargli un pochino più forza. Quindi il nostro ricorso viene depositato questa settimana. Manifestazione avvenuta mentre nel palazzo della provincia si teneva la prevista conferenza dei servizi istruttoria al progetto presentato da Aurora. Noi ci aspettiamo, come hanno detto tutti, tutte le istituzioni coinvolte nella conferenza, che oggi ci sarà un chiaro messaggio di interruzione di tutta la pratica, quindi di cancellazione del progetto di scarica di Ceci. Intanto la partita di Ceci corre parallela agli approfondimenti portati dalla Commissione parlamentare di inchiesta con le audizioni degli amministratori coinvolti nella vicenda. Quello che sta venendo fuori in Commissione parlamentare sono le stesse identiche cose che noi avevamo dichiarato, scritto negli esposti presentati nelle tre procure di Urbino, Pesaro e Rimini. Purtroppo quegli esposti sono stati cassati, sono stati archiviati. Adesso, grazie fortunatamente alla Commissione parlamentare, le stesse identiche cose che dicemmo noi a suo tempo, e cioè in particolare l'errata o omessa comunicazione sociale dalla società ai loro rappresentanti, cioè ai loro consiglieri, è stata omessa o fatta male. Noi siamo qui per fare la manifestazione contro la provincia, perché la provincia ha dato questa proroga violando quelle che sono le normative, quelle che sono le leggi, c'è il decreto 152 del 2006, hanno violato l'articolo 5 e l'articolo 8 di quel decreto. L'articolo 5 dice che la proroga si può dare una sola volta e la proroga già la regione l'aveva data a maggio concedendogli 180 giorni, concedendogli già 180 giorni. All'articolo 8, all'articolo 8 della legge 241 del 90, la legge sulla pubblica amministrazione, sulla trasparenza della pubblica amministrazione, dice anche che quei termini sono perentori, sono perentori. Quindi qui c'è un atteggiamento della provincia che ha violato volutamente queste norme. Noi avevamo presentato il 15 gennaio un'istanza di archiviazione con diffida alla provincia, la quale invece di archiviare ha pensato di autorizzare ulteriore integrazione, ulteriore 180 giorni. Quindi adesso noi abbiamo deciso di impugnare davanti al TAR sia il provvedimento del 19 gennaio e anche questa attuale conferenza dei servizi istruttoria che si sta svolgendo in videoconferenza in questo momento. la quale è chiaramente, palesemente illegittima perché scaturisce da un provvedimento che è al tempo stesso illegittimo e va a sostituire invece una richiesta di archiviazione per mancato rispetto dei termini.